Buona serata e ben ritrovati a voi tutti cari amici social followers dal vostro deluxe sapete che mi piace cambiare spesso argomento per non essere come si dice ripetitivo parliamo come vedete dall'immagine di video copertino questo oggi di palacanestro basket lega basket serie LBA 2024-2025 si parte il 29 settembre si chiude la regola season l'11 maggio prima del secondo campionato tra virgolette ovvero il playoff campionato che godrà come l'anno scorso e anche in questi ultimi anni a questa parte della copertura televisiva di Eurosport Discovery Plus il gruppo Warner Bros Discovery ovviamente il duello sarà il solito e a Olimpia X Change Emporio Armani Milano contro le V Nere la Virtus Segafredo Bologna le due compagini si affronteranno rispettivamente per l'andata all'8 dicembre al Forum di Assago il 2 marzo alla Segafredo Arena ricordiamo che andata e ritorno sono divisi in gironi asimmetrici come nelle ultime due stagioni la prima giornata ovviamente di campionato regolare vedrà queste sfide Banco di Sardegna, Sassari, Givova, Scafati Bertram, Dertuna, Tortuna, Panoli, Basket, Cremona Germani, Brescia, Open Job, Medis, Varese Palla, Canestro, Trieste, A7, Olimpia, X Change, Emporio Armani, Milano Estra, Pistoia, Napoli, Basket, Trapani, Shark, Virtus, Segafredo, Bologna Umana, Reier, Venezia, Nutri, Billet, Treviso, Basket Conclude 1, Otis, Reggio Emilia, Reggiana, Dolomiti, Energia, Trentino Quindi buon campionato di basket Serie A Lega a tutti Inizieranno brevissimi ritiri le formazioni Ciao